Abbiamo insediato oggi una nuova stagione di un'autorità di garanzia molto importante, il Corecom Abruzzo, che si occupa di comunicazione, di tutela e affermazione dei diritti dei cittadini, di ciberbullismo e di altre attività che interessano direttamente i cittadini della regione Abruzzo. Noi risponderemo alla fiducia ricevuta, profondendo grande impegno in queste nuove attività, avvicinandoci ancora di più come istituzione regionale ai cittadini abruzzesi. Vedremo nelle prossime settimane, spero, i primi frutti di questo lavoro, che sarà un lavoro fatto di dedizione totale, di impegno e di assoluta imparzialità. Sono un dottore di ricerca dell'Università d'Annunzio, dove ho svolto attività di docenza anche in ambiti disciplinari attinenti alla comunicazione e sono stato per diversi anni il coordinatore dell'ufficio legale regionale di un'associazione di consumatori e utenti che opera anche nel settore della telefonia. Quindi cercherò di portare queste mie competenze all'interno del Corecom e al servizio del Corecom e credo che si possa fare sicuramente un lavoro eccellente, visto che già si è creato un ottimo feeling con il Presidente Chiavaroli e con la dottoressa Galeotti. Voglio ringraziare il Consiglio regionale per la fiducia accordatami. Spero di poter apportare tutta la mia competenza e tutta la mia esperienza in questa nuova sfida. In un momento in cui l'informazione, ed in particolare l'informazione online, gioca un ruolo davvero importante, dunque la legge sull'editoria segnerà il passo della storia della nostra regione. Dunque buon lavoro a tutti quanti, al Presidente e al collega e grazie davvero al Presidente Sospiri per la fiducia.